La strada è stata alle 5, Tiburtina Valeria, 9 aprirà più per la fine dell'estate ma addirittura a novembre. I lavori per la realizzazione della terza galleria Paramassi tra Molina, Terno e Raiano sono infatti in ritardo ed ora dovranno svolgersi per tutto il mese di agosto fino al 31 ottobre. E quanto stabilito in un incontro tra l'ANAS e l'Impressa Tenaglia, i sindaci di Molina, Terno, Luigi Fasciani, di Castelvecchio, Subecco, Pietro Salutari, di Acciano Fabio Camilli, di Secinaro Celestino Bernabei ed il Comitato Provalle Subequana rappresentato da Berardino Musti. Nell'incontro è scritto in una nota congiunta abbiamo esposto la nostra preoccupazione in merito al ritardo dei lavori che si stanno eseguendo, abbiamo messo in risalto i molteplici disagi che i cittadini hanno nel percorrere il tratto viario della Provinciale 9, abbiamo rimarcato che non è più ammissibile lavorare alle condizioni attuali e che con urgenza bisogna cambiare strategie e organizzazioni di lavoro perché non siamo più disponibili a tollerare una situazione carente e insoddisfacente. Gli amministratori ed il Comitato fanno appello ai cittadini subequani affinché possano affrontare con pazienza e spirito di sacrificio i disagi dovuti alla prolungata chiusura della strada che appena sarà sistemata non costituirà più un pericolo per gli automobilisti in quanto cesserà il problema della caduta massi.